Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Ora ragazzi allora io sono eccitato come una pigna Perché oggi No in realtà è uscito da un paio di giorni Ma chi se ne frega Oggi stiamo per giocare a un gioco Che è stato fatto dagli stessi creatori Di A Way Out Che è la serie del mio canale Che ha avuto praticamente più successo Cioè la serie che mi chiedete tutti No mamma mia A Way Out ti ricordi bellissimo eccetera E perché era bella la serie di A Way Out Una delle migliori serie del canale Perché c'era il sottoscritto Ma anche l'incredibile unico Ciccio Merrino Amico mio sei pronto Perché questo tasto che sto per premere Dà via a un'avventura pazzesca Let's go Che mi ha laggato A basso sta laggando tantissimo Ok forse si stabilizza Non ho capito devo andare al dentista Cos'è che ha detto? Sì Tu bro dovresti andare al nazista No dai questa è brutta Nooo Esiste no Il chirurgo sarebbe Ma che carine sono ste bambole Voglio anch'io Cody Ma infatti May Se si fossero chiamati Zack e Cody Sarebbe stato ancora meglio Vai subito sul personaggio con il naso uguale al tuo Ebbene Ok Però E' quello che è l'unico più Non puoi fare solo questo Va bene Allora io inizierò con Chi è Cody? Cody Sei tu Cody Sono io Cody Ma sei sicura? Perché c'ho il codino? No non so Porca vacca Mi è cascato il joystick Ti stanno separando E' probabile Però sicuro Però che Ma che carina Ma poverina Che tristezza Andata di su Comunque per un bambino Deve essere incredibilmente brutto Intanto i due pezzi di merda Vabbè Con quanta cattiveria Sì 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 Cody e May si prendono Vabbè Oh oh Ma è uscito Eh vabbè E che è Spider-Man Ma è questo Ma do bro Ma la sai che questa La vedi questa cosa di sta cosa qua Che gli cresce le drà Sì Io c'ho sempre avuto l'ansia Di ste cose in America Ma uno si arrampica subito Ma infatti da pazzi Eh Ma che ansia Do a nada Cosa la falignameria Mo crea una visione E noi prendiamo vita Ora la goccia La goccia tocca il coso E si E si trasformano Guarda Oh Sto male Rambor Tu ormai Le scrivi le trame Sei tu che in realtà Aspetti solo che sia io A dirti di giocare Ma lo fai tu Non è possibile Mio padre Cos'è Ma 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 Quindi scusa Cioè fammi capire Loro sono I genitori Non avevo capito Niente Io pensavo Loro fossero I personaggini Piccoli Dei giochi Che prendono vita Invece no Loro sono le anime Dei genitori Eccoli Cioè io vedo La tua visuale E la mia Cioè questa cosa qua Ragazzi è pazzi Cosa stai facendo Bellissimo Non so neanche Come tu faccia Eh vabbè Cos'è sta roba Dai è bellissima Sta cosa Non è impagabile E' troppo bello Oddio posso Posso girare sto qua Hai avuto E' veramente figa Staiuto Non è come a way out Bisogna uscire di prigione Ma bisogna uscire Da fare Fale gnameria Ah c'è una leva Dobbiamo tirarla in due Aspetta Eh non sono Tanto buono La schiacciare Qual è il tasto Pensa che gioco E' compiuta Da 60 anni Non ho capito Qual è la Y Manco Però se posso dire Questa roba qua Che continua La loro storia E che loro Lavorano insieme Poi alla fine Si rimetteranno insieme Perché si riamano Di nuovo Eh si sblocura Probabilmente Chissà Lancia dove è la Ma dove è la sopra Lanciamelo tipo Se si può fare Eh vabbè Ci dovrò arrivarlo Scappare Mi sa che dobbiamo Spaccarlo buttandolo giù Ah no saltiamo Ok Salto a te No Bravo Ti è entrato nel deretano Ah no è salito qua sopra Eh come fai Ma sempre Ho avuto i giochi Vai veri che l'hai fatto Lo bravissimo Sei già tutto Come cacchio è No A posto Arrivo Vado Ok Vai bro Molla Ok Accovaccia Dai vieni qua Dove stiamo Dove cacchio Stiamo entrando Questi sono i cavi di internet Attenzione Sì 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 Allora si corri Ah vedi che puoi correre ancora di più Tu vai a destra Ok stai così Dove l'abito Uno Via Siamo troppo bravi E adesso Salta e scivola sulla superi Dove è quel coso Ma che figo Che fastidio Vieni qua Come cacchio facciamo Ah il contenuto Bravo Perfetto Siamo dei cliché Ti bro Siamo dei cliché Siamo dei cliché Wow Va bene Let's go Una maggio che corre Come un cliché Ma è fortissimo Eh sì vabbè ho capito C'è qualcosa Da corrente Lo stacco Perché secondo me serve Aspetta È vero Wow Ah no l'ho attaccato in realtà Oh Occhio Ciapa questo Eh certo Wow Ora Eccolo Occhio Oh merda Ah sì bellissimo Ti ricordo che anche nel way out C'era sta roba Si 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 rallentava al tempo L'ho preso Andiamo bro Madonna regà È stato fighissimo Tutto sto bordello E poi siamo tornati qua alla fine Sì Yes Ce l'ho fatta Ma è nostra figlia Ci può vedere così o no Che questa cosa non l'ho capita Eh ora Aspettare da lei Penso Ok Non lo vedremo mai però Dodici anni per apri sta cosa Basta lillo Ecco lillo Oh me Ecco Grazie Grazie lillo C'è rude però Un po rude Ma tra l'altro Mentre parla Non esce l'audio A me Non so perché Orca vacca Ce la prendiamo Nel geretano Bro In boss Sicuro da battere Ma in tutto questo Nostra figlia Non vede sta roba Eh no Secondo me Oh secondo me Bro Tipo è Tutto effetto Una strana Oh oh Ottimo Oh mamma mia Che bocca Che lagga Secondo me Boss fight Subito Ma dovevo andare qua Ah c'è un problema Non ho anche visto Ok let's go Eh vabbè No Sono cascato nella melma C'era solo una roba da non fare Quella Bene Bene Non sono molto bravo Nei platform Non so se te ne sei reso conto No vabbè Esatto Vabbè tranquillo Però c'è sempre L'aspirapolvere Ci entro Oh Tutto ok E sono entrato Nell'aspirapolvere Ok Occhio E vabbè ma sei un fenomeno Come possibile Ahia che male Devi girare Ah ho capito Ho capito Ok l'ho visto fare nel trailer Guarda Entraci Fida dire me Ciao Ok ci entro E io che ne so Devi girare il coso Tiragli una culata Tira una culata Faccio io No Bravo Ce l'ho fatta Beh è stato figo Alla fine C'è stato insieme Adesso E' stata la nostra prima Vera collaborazione Ma hai visto che Dettono Il naso Si è detto Lui Dettono Il naso No Questa E' veramente Tutto Il cacchio Oh vieni qua Ok C'è tutto sto casino Ma peraltro Dove che siamo E' una roba immaginaria Perché non può essere Così grosso Ma infatti Poi la melma Casa la melma Ma sono qua Che cosa gli fa La stessa cosa Sicuro Ok Ah ok 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 Vai bro Ok Sì sì Ecco mi ha spinto Perché quello aspira Pro E' il contrario Guarda Sollevalo Oh Grazie Dobbiamo collaborare Per andare avanti Sostanzialmente Vuole dare Ce la faccio Anche Aspetta che non so Che cacchio Ho fatto questa roba Alto voltaggio Vediamo Ah uno deve fare Da conduttore Ok Allora per fare Ah qua inizia a diventare Difficile bro Eh beh Qua inizia a diventare Allora tolgo questo Così passi Puoi passare Maledetto Non ucciderti No Adesso possiamo fare Che schiacci quello Ok E vai nell'altro Corri corri Ahia porco demonio Vai 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 Nell'altro Subito Vado Ce l'ho fatta Grazie Sto stati bravi Ma siamo dei fenomeni Occhio È fatto per noi Sto gioco Ma succede Aiuto Dove stiamo a fine Eh vabbè Che casino Ok Quanti cacchio Riaspira polveri Esistono In sto posto Oh Vabbè Che setanza Sincronizzata Adesso Ok Siamo praticamente Sì 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 Solo Facciamo le stesse cagate Ok Ma ho visto cose molto più dangerous Vieni bro Let's go Tira sta roba Anzi tiro io Ma che è successo Tranqui tranqui Stai sali su sto conto Ti faccio andare avanti io Subito Ciao Vabbè mi posso aggrappare Aspetta ho capito Ti puoi aggrappare E di maniera aggrappato Ah ok Ti puoi aggrappare Ecco qua Dove avercela fatta Yes E mo Perfetto Ah mo devo fare qua Aspetta Sì 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 Triangolo Sta arrivando della roba Non so dove Aiuto Che è successo Ah no ho aperto la porta Ok adesso devi farlo tu Basta che ti attacchi fin alto Attaccati fin alto Bravo Esattamente così Bravo Ahia c'era un buco Sono morto Oh E vabbè Abbiamo rischiato tantissimo Ah uno deve andare dentro E l'altro deve girare i cosi Vai Girami così Grazie Ok ok Bravo E mo Ah c'è una leva Aspetta Dove vai Vieni qua su C'è un coso della luce Ah non c'era motivo Di venire da cacci Ma l'ho fatto Mi sa che stiamo risalendo Siamo in casa alla fine bro Vedo la fine della sfida polvere Ci stiamo Ci stiamo È fatta È fatta È fatta C'è fatta più o meno Però Andiamo Ok È figo però Vai Pure io Adesso stiamo risalendo L'ultimi pezzi Occhio No è veramente figo Voglio fare sta cosa Sì Voglio Vorrei che esistesse Sta roba per farla Ok E mo Ah vai su Vai su Ok di nuovo Perfetto Non mi chiedere Che devi fare Lanciati Yes E ora devi girare Questa a fare Non so Ah devi puntare i cosi Devi puntare sul cosi Dall'altra parte Così si incana l'aria Yes Però Perfetto Perfetto È difficile Ah perché mi devo accovacciare Ah vai 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 Gira Gira tranquillo Minore città la luce Ce l'ho fatta Yes Posizione Devi fare la cacca Aiuta sempre E let's go E adesso Ah devo spingere lì Ah ok 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 Devo schiacciare quel coso Così tu ti ficchi di sopra Dove dove? Tu devi ficcarti da sopra Stai là E poi nel mentre Salta sul coso Il corpo Vai 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 Saltaci Non lì Saltare sul coso di sopra Che ti aspira Capito vai Ah ok scusa Fatti aspirare Fatti aspira Da sopra Sopra Ma non quello L'altro Quello di fianco Ok Questo qua Questo qua Questa sinistra Ok bro Ora mentre fai così Io ti alzo Che succede adesso? L'ho fatta Yes Vai E adesso deve cambiarsi il coso Come sempre Se magari aspetto che Sì adesso è cambiato il coso Aspetta Ok Che figo Yes Non so dove sto arrivando Ma funziona Ci sono ancora Che roba Dove però puoi finirla Amita Tu puoi staccare Dove Credo Ah ok Aspetta che ti ho lanciato qualcosa Ah la palla Riprendilo 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 Riprendi con l'affare Fila di Vai Ok preso Perché adesso io ti butto delle mele Dentro Aspetta È troppo figo Ok Ti faccio colpire con l'affare Vai 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 Eh si amassi al massimo Vai vai colpisci Ma è bellissima sta cosa Ma che figata Comunque sono i cosi che puliscono per terra Ma volano Non so come sia possibile Ok Belli Dobbiamo usare come piattaforma Oh oh Yes Ce l'avevo fatta My brother 12 ore E adesso ci sarà la boss fight È ormai È scritta sta roba Direi Aspira torre si chiama Non ho parole È tipo crash bandico Devi cambiare Devi schivare i cosi Ahia porco Demoni C'era un boss Di che spedicolo Faceva la stessa cosa Vai sopra Ma dai Eh ma ne riesco a risucchiare solo alcune Perché erano tutte vicine E appunto appunto Aia che male Mi sta spaccando il deretano Dobbiamo starvi lontani Perché lui colpisce quando sei lontano Eh forse già così riesco Vai Grandi 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 Vai Perfetto Ok lontani Così ci colpisce qua Dai Spara Ma infatti è orrendo Aspira torre E spara Che occhi Che occhi orribili che c'ha Aspira le bombe Spaccagli il cu Bravo C Lo dico per madonna Aiuto mamma Mamma Ci sono delle mine Troppe Vabbè Mi sa che siamo morti No l'ho schivato L'ho schivato Oh merda Che trick L'ho schivato Siamo messi in attimo Sì va bene Incredibile Che cazzo è Terminator Vai bro Now or never No no Va bene Ok No mi sono sparato io Mi sono risparato io Oh ce l'ho fatta Troppo tardi Però Eh sì No invece un po' Le hai sparato Bella Le hai levato un sacco Lancia delle pietre Grosse Aspira torre Non mi fai paura Puoi buttare qui Tutte le bombe che vuoi Ma Aspira torre Ok Vai Aspira torre Mi farà sempre abbastanza Vai Ok ce l'abbiamo fatta Vai Spaccagli il culo È finita Yes Vai vai Venire qua Ma è bruttissima Quella cosa Ciappa sti cosi E Fagli risucchiare Se stesso Ah devo premere Sempre triangolo Sempre triangolo Che bruttissima roba Ma no ma ragazzi Da incubo Si è risucchiato I suoi occhi Boh vabbè Ah è vero Perché se tu metti Un coso dell'aspirapolvere Dentro l'aspirapolvere Stesso esplode Siamo cascati Con un po' di lag Però vabbè Siamo ritornati qua Bro Rifacciamo tutto Martello È un Bobullone Ah no Martello D'altro è pesantissimo Quello a fare Come faccio a portarlo Sulla schiena Come se niente fosse Ah tu Io batto il chiodo E tu lo metti Perché Ok È la tua paretra Uso il martello Ah no Io sono torro Bro Riprendo il chiodo Spacco le cose Tu spari le cose E io le Ma è bello Aspetta Pam Spacco le robe E quindi ragazzi Questo era il primo episodio Di It Takes Two È veramente fatto Benissimo Cioè per i Vabbè sono i creatori Di way out Che era un capolavoro Quindi per forza Ringrazio il buon ciccio Per accompagnarmi In questa avventura Come sempre Ci vediamo al prossimo episodio Arriva molto molto presto Perché voglio assolutamente Finirlo con ciccio E registriamo tutti a manetta Quindi non vi preoccupate Che tra un episodio e l'altro Passano massimo 3-4 Al massimo giorni Massimo massimo Iscrivetevi al canale Lasciate un commento qua sotto E noi ci vediamo Come sempre Ad un prossimo video Bella ragazzi Ciao